Grazie a tutti. È un'annata molto particolare dal punto di vista climatico da un lato e anche però per l'instabilità dei mercati. Mirko Malossi, responsabile commerciale RV Venturoli, partiamo dalla situazione dei mercati. È molto complicata attualmente, non solo quella delle commodities, quindi dei prezzi del mercato del cereale, ma anche quella di tutti gli altri mezzi tecnici per l'agricoltura, vedi concimi, vedi gasolio agricolo e anche gli altri prodotti chimici. Questo crea molta incertezza e insicurezza sui prodotti che andremo a breve a trebbiare, in gran parte agli agricoltori anche, i quali anche con le primaverili hanno avuto difficoltà a scegliere magari quale specie mettere. Diciamo che l'aumento delle quotazioni di mercato già in autunno ha sicuramente favorito una semina più espansa in certe zone, soprattutto anche in Emilia Romagna, di cereali autunno-vernini e infatti ci troviamo con una superficie anche in giro, si vede, abbondante. Dopodiché anche l'andamento climatico non aiuta e abbiamo avuto pochissime precipitazioni. Diciamo nel centro nord Italia, perché nel centro sud Italia invece stava succedendo il contrario, soprattutto lì nel periodo di semina, novembre-dicembre, che continuava a piovere e non smetteva mai più con difficoltà proprio nelle semine e anche preoccupazione per non riuscire a seminare, eventualmente sono riusciti a seminare, poi dopo la siccità e anche le temperature alte. Ecco, insomma, quindi questa è un pochino la situazione delle semine, delle tendenze. Veniamo alle novità. Già questa mattina nella parte convegnistica è stato sottolineato l'aspetto importante dell'innovazione, innovazione che Venturoli sta facendo da sempre, dalla nascita e anche a quest'anno avremo delle novità a catalogo. Una è qui di fianco, ma non è solamente questa. Esatto, è RU Venturoli sempre alla ricerca di nuovi materiali più performanti per gli agricoltori e anche più adattabili ai cambiamenti climatici o alle nuove esigenze delle aziende agricole e prosegue la sua ricerca di materiali adattabili sempre meglio all'ambiente italiano grazie alla partnership con Saten Union, il fornitore di ibridi. Abbiamo da due anni più linee in prova di ibridi per trovare le varietà più adattabili con un ciclo più idoneo per il nostro areale, che è diverso dal nord della Francia, che è lontanissimo da qua. Tra queste linee è stata già scelta sui toni e noi abbiamo notato che ha un ciclo molto più precoce, quindi simile a quelli delle varietà più coltivate in Italia. Questo favorisce una chiusura più veloce del ciclo, una raccolta anticipata e quindi anche un pesetto elitrico più idoneo. Ecco, una novità che è stata sottolineata anche questa mattina è un ibrido aristato ed è stato sottolineato perché ai cinghiali non piace, che detta così, insomma tutta la ricerca però è importante. Assolutamente, non si ferma solo sui quantitativi o l'adattabilità, ma anche l'adattabilità specifica in certi territori, soprattutto collinari o del centro Italia, dove sappiamo che i cinghiali ormai hanno raggiunto anche le zone urbanizzate. L'ibrido aristato ci veniva chiesto dai nostri clienti e quindi anche lì avevamo esposto la richiesta al costitutore francese e sono arrivati finalmente con una varietà che quest'anno avremo dei materiali da provare. E a proposito di ibridi, Giuliano Roverso arriva da Vicenza ed è stato uno dei primi estimatori, dei primi che hanno sperimentato e messo in campo il frumento ibrido, facendo tra l'altro tenendo anche dei record produttivi. Ancora adesso in azienda ha degli ibridi, quindi direi che è stata un'innovazione che ha portato bene, diciamo così, al mondo agli agricoltori e ai cerealicoltori. Esatto, stiamo festeggiando il novantesimo compleanno di RV Venturoli. Novant'anni fa eravamo in piena battaglia del grano, dove si è prodotto a livello nazionale quintali 16,8 per ettaro. Nei primi del Novecento erano solo una tonnellata, dieci quintali. Attualmente stiamo, media nazionale, sui 66-7 tonnellate. Io sono arrivato a quasi 10 tonnellate. Però con queste varietà si può arrivare più in alto, sempre con l'aiuto del tempo. Noi abbiamo problemi adesso nella nostra zona di Vicenza per quanto riguarda l'acqua e dobbiamo constatare che acqua ce ne sarà sempre di meno. E anche il frumento purtroppo ha bisogno anche lui di acqua. Non nel periodo della spiegatura, perché si dice maggio ortolano, tanta paglia, poco grano. Da noi usiamo un altro termine, che la fioritura deve andare sui crepacci, sui crepi. Lo dico in dialetto vicentino, deve andare sui crepi. Allora tu hai una produzione ottimale, che dopo sarà a compensare il prezzo del grano, che per fortuna a marzo è lievitato tantissimo. Però devo precisare una cosa. L'Urea l'anno scorso valeva 24 euro. Oggi si è pagata anche 120 euro, vuol dire 5 volte tanto. Da nord a sud, con Raffaele Natuzzi, che nella valle della Murgia, tra Puglia e Basilicata, zona peraltro bellissima, coltiva 200 ettari di tenero ibrido. E tra l'altro anche lei è stato uno dei primi estimatori, perché sono già più di 10 anni che si è indirizzata e interessata agli ibridi. Convinto di questa scelta? Che cosa è cambiato? Assolutamente sì. Sono convinto di questa scelta perché il risultato di un campo è la somma di tante variabili. Però la prima a entrare in campo è quella del seme. Quindi un buon seme, da un buon seme poi dipenderà il risultato di tutte le altre variabili, di tutti gli altri mezzi tecnici. Se sbagli seme poi hai bisogno di più mezzi tecnici, le difficoltà aumentano. E un aspetto importante del libido sono le patologie, perché oggi il problema principale sono i semi infetti. Quindi avere un seme tecnico, un seme scevro da infezioni e malattie già nel seme è un vantaggio enorme. E questo vantaggio si sta vedendo sempre di più nel corso degli anni, perché le patologie sono sempre in aumento. Il problema dell'agricoltura di oggi sono le patologie. Lei fa tenero, perché destinazione? Per uso alimentare. È un'azienda biologica, quindi produco grano biologico. Un altro aspetto, come abbiamo sentito anche oggi al convegno, fondamentale degli ibridi, perché riescono bene in biologico, in quanto dato il forte potere di accestimento che hanno, soffocano le malerbe. Quindi naturalmente si riesce a fare meglio il biologico che non con il semi convenzionale. E anche sempre per il discorso delle patologie, perché in biologico le patologie sono sempre maggiori rispetto al convenzionale, dove si possono utilizzare mezzi tecnici diversi. Infatti avete una gamma molto, ma molto più ridotta. Più ampia nel convenzionale. La giornata di oggi, la visita in campo, è dedicata, ovviamente considerata la stagione, ai cereali a paglia, però gli spunti della parte del convegno di questa mattina ci portano anche a parlare di sorgo. E qui abbiamo chi il sorgo lo tratta, lo conosce, lo conosce molto bene, seguendo quelle che sono le province dell'Emilia Romagna, escluso la parte occidentale, che sono quelle dove si produce tanto sorgo. Allora, gli spunti che sono usciti questa mattina di questo cereale che ha tantissime potenzialità, gli agricoltori lo stanno riconoscendo? Come sta andando? Questa è una domanda intelligente e difficile a cui rispondere. Perché le potenzialità del sorgo sono, non dico infinite, ma sono molteplici. Se vogliamo paragonarlo nei confronti del mais, che è la cultura di riferimento, molte aziende stanno provando, stanno sostituendo la cultura del mais, laddove ovviamente manca l'acqua, soprattutto, in terreni, ovviamente, areali irrigui, non irrigui, e praticamente lo stanno sostituendo per una miriade di fattori. Nel reparto zootecnico, per quanto riguarda le peculiarità della granella del sorgo, che, a differenza del mais, ha delle caratteristiche completamente diverse, il sorgo si raccoglie secco, il mais bisogna insicarlo, nel sorgo non ci sono problemi di tossine, quindi tutte le filiere che sono legate all'alimentazione animale e anche umana, ma diciamo, prettamente nell'alimentazione zootecnica, cominciano ad affacciarsi al sorgo in maniera importante, e speriamo sempre di più, perché il sorgo lo merita come cultura, nel portare avanti, appunto, questa varietà. Conclusa la visita in campo, adesso siamo qua, proprio in un momento di festa, in quest'aia bellissima, Geraldine Venturoli, amministratore delegato, la nuova generazione, anche se c'è anche Gabriele, suo figlio, che è l'ultima generazione in azienda, 90 anni, per un'azienda familiare, per un'impresa familiare, una bellissima eredità, una bella anche responsabilità. responsabilità. Assolutamente sì, una grande responsabilità, ma per me è un piacere, perché posso stare vicino mio padre e godermelo, e ho imparato a conoscerlo in questo ultimo anno molto di più rispetto a prima, e quindi per me è un piacere, veramente, e imparo tantissimo da lui. E poi la gioia di stare con mio figlio, che sarà il futuro, è il futuro di questa azienda, e che anche se è giovane, veramente, è molto bravo, anche nelle pubbliche relazioni, è veramente bravo, e quindi lo sto conoscendo sotto quest'altro punto di vista, e sono molto contenta, sono fiera, sì di mio padre, che di mio figlio, e quindi sono molto fiera di poter lavorare per questa azienda, e poter avere creato questo evento per festeggiare i 90 anni, di una realtà che è difficile da trovare, ma soprattutto una realtà dove tante persone hanno portato la stima nei confronti di mio padre e di questa azienda, e quindi ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, e grazie a tutti. E allora, ovviamente, buon anniversario per altri 90 anni di attività. Grazie infinite, grazie anche a voi che ci avete seguito, in sovraimpressione, come sempre, tutti i riferimenti, per poter rivedere anche sul web e sui canali social la nostra trasmissione. Grazie ancora e ci ritroviamo la settimana prossima. In collaborazione con Grazie a tutti.